Benvenuti, cari follower, in questo nuovo video, in cui vi informeremo sulle zone interessate, da pioggia, temporali e maltempo, domani, lunedì 26 agosto 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci e incoraggiarci, premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Quindi, come vedete sulla mappa davanti a voi, a partire da domani, lunedì, entreranno in Italia dei forti temporali. E questi temporali si formeranno per la formazione del fenomeno convettivo e per l'incontro di aria calda con aria fredda nelle strati superiori dell'atmosfera. Questi temporali saranno attivi al nord nel periodo mattutino e aumenteranno di intensità durante la sera. Sul nord Italia e in varie zone del sud saranno accompagnati da forti venti e grandinate. Pertanto è necessaria cautela. Domani, lunedì, quindi, sono attesi forti temporali su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana Marche. Tuoni in varie zone della Campania e della Calabria. Si attende così l'arrivo del vero e più potente temporale in Italia, a partire da martedì 27 agosto. Restate sintonizzati per maggiori dettagli più avanti.